Ciao tifoso, come stai? Andiamo oggi ad un'altra puntata della telenovela Skriniar, risolveranno presto questa impasse? L'Inter si garantisce che non ci sarà l'uscita di Milan Skriniar in questo mese. La società esclude la possibilità della sua partenza e ciò che ci si aspetta è che il giocatore dia il massimo fino all'ultima partita, come ha sempre fatto. Il giornalista Fabrizio Biassina fornisce aggiornamenti sulla situazione di Skriniar e condivide la sua opinione sulla possibilità che lasci il club. Vi invitiamo a seguire le ultime notizie e le emozioni dell'Inter sul nostro canale e a unirvi a noi nel viaggio della beneamata forza Inter attraverso i suoi social. Vi chiediamo anche di esprimere la vostra opinione su se preferite che Skriniar resti o se sia meglio che se ne vada. Grazie a tutti!